Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare e configurare le riceventi in Flysky al flight controller iFlight, SASXX e F4. Questo flight controller è montato nel Nazgul 5 o nel C-Dora, quindi se avete uno di questi droni e volete collegare una ricevente in bus questo è il video che fa per voi. Le riceventi più utilizzate al momento sono la IA6B, la X6B, la A8S e la FLi14, ma il procedimento è uguale per tutte le riceventi che supportano il protocollo iBus. Vediamo quindi quali cavi collegare per connetterci via iBus. Nella IA6B utilizziamo un cavo servo, e lo colleghiamo nella porta qua sopra facendo in modo di avere il cavo iBus in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Per quanto riguarda la X6B colleghiamo il connettore JST in questo ingresso, anche qui abbiamo iBus in alto, positivo al centro e terra in basso. Nella A8S rimuoviamo il cavo iBus, teniamo solo la terra, il positivo e il cavo iBus. Nella FLi14 abbiamo solo questo connettore, quindi non possiamo sbagliare. Come sempre il cavo iBus è quello giallo. Spostiamoci ora nello schema del flight controller. Per quanto riguarda terra e alimentazione possiamo usare questo pad G e questo pad 5V. Per quanto riguarda il cavo iBus possiamo collegarlo in un qualsiasi RX della scheda, nello specifico possiamo scegliere tra R1, R6, R3 e R2. La cosa importante è attivare la porta UART corrispondente su Betaflight, quindi se collego iBus nel pad R1 attivo la UART1, se lo collego nel pad R2 attivo la UART2 e così via. Per mantenere tutti i cavi vicini io uso il pad R3. Dopo aver prestagnato saldo i fili. Adesso avviamo Betaflight e andiamo in port. Attiviamo Serial RX nella porta UART3, dato che ho saldato il filo iBus nel pad R3. Ci spostiamo nel tab Configurazione e in Receiver scegliamo SerialBusedReceiver. Nel menu a tendina sotto iBus. Quindi salviamo. Ora non ci rimane che andare in Receiver e provare la radio. Perfetto, è tutto ok. Se notate che muovendo gli stick ne avete alcuni invertiti, andate in Channel Map e cambiate a ETR1234, INTAIR1234 o viceversa. Per quanto riguarda il segnale RSSI, su Flysky non c'è una regola generale, ma ci sono diversi casi a seconda di quale radio o ricevente state usando. Ad esempio la A8S e la FLI14 fanno passare la RSSI in un canale predefinito, mentre per la IA6B e la X6B è necessario aggiornare il firmware della radio. In descrizione vi lascio la mia playlist su Flysky dove analizzo tutti i casi che possiamo incontrare. Perfetto abbiamo finito, la ricevente è collegata e Betaflight riconosce il radiocomando, non c'è altro da fare. Questo era il mio tutorial su come collegare e configurare le riceventi Flysky al flight controller iFlight. Se vi è piaciuto il video quindi lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video. Perfetto